Non è partito l'atleta della Padova, sono 8 ore, 8 ore, 4 ore, 5 ore, 5 ore, 6 ore, 5 ore, 5 ore, 5 ore, 6 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 ore, 7 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 46,519 suona la campanella l'ultimo giro passa con l'ultima curva e poi attendiamo il tempo della batteria 45,366 ma ora è un appello a giustare l'unica per mesche ferie per mesche ferie prima passa per pezzo per pezzo e noi abbiamo fatto la pietra di chiesa e noi abbiamo fatto la seconda giornata sul gruppo nei regolamenti di gara e noi abbiamo fatto la pietra di chiesa 45,430 e noi abbiamo fatto la pietra di chiesa 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 tempo di riferimento 45,782 ricordiamo che la pietra di chiesa e noi abbiamo fatto la pietra di chiesa Siamo al suolo della campana dell'ultimo giro, ed ecco il tempo di questa batteria. Siamo al suolo della campana dell'ultimo giro, ed ecco il tempo di questa batteria. Siamo al suolo della campana dell'ultimo giro. 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 Siamo al suolo della campana del giro. Siamo al suolo della campana dell'ultimo 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 giro.